Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi andremo a parlare della nuova Yamaha Tracer 9 e 9GT. Yamaha ha presentato il nuovo modello della Tracer, 900 in questo caso, perché la 700 è già uscita, e hanno rinnovato come prima novità apparente il nome. Appunto adesso non si chiama più Tracer 900, ma si chiama Tracer 9. Non so per quale motivo, però ok, ci sta. Andiamo subito a parlare delle novità che appunto ci dà sul sito a prima vista. Abbiamo sospensioni semiattive Kayaba, molto molto carina come innovazione, perché appunto possiamo vedere delle sospensioni elettroniche semiattive, non ne sono un esperto, ma si riesce a capire anche vedendo le immagini di queste nuove sospensioni, che sono regolabili sia fisicamente sia elettronicamente, cosa a parer mio molto positiva e anche molto bella come innovazione tecnologica. Non è una novità assolutamente nel mondo delle moto, però per questo segmento di moto, specialmente nei Yamaha, sì. Bauletti laterali rigidi. Le borse laterali c'erano anche sul vecchio modello della Tracer 900 GT, però evidentemente questi saranno ridisegnati ed è sicuramente così, perché si vede che sono diversi. Diciamo che è un qualcosa di trascurabile. Andiamo avanti. Quickshift System per innesto marce superiori e inferiori. Sulla versione GT abbiamo sia il Quickshift che il Blipper, molto molto bello. Luce adattive LED, colori e grafica dedicati, motore CP3 890cc Euro 5, stesso identico motore della nuova Yamaha MT-09 e MT-09SP, telaio leggero pressofuso in alluminio con sistema CF, stesso telaio a questo punto, o meglio, stesso trattamento al telaio che è stato fatto alla 0.9 e alla 0.9 SP, i mua 6 assi e sistema di assistenza al pilota sensibili all'inclinazione. Questo è stato preso dalla R1M, o R1, non mi ricordo, è stato riadattato su questa moto. Stiamo parlando appunto di controlli elettronici, abbiamo il nuovo Traction Control a tre livelli, poi abbiamo un antislittamento e una regolazione, che non ho ancora ben capito di cosa si tratta, molto buono, diciamo, stanno implementando piano piano molta più elettronica su queste moto e specialmente su questo segmento è abbastanza utile quando si appunto tratta di viaggi e su vari tipi di asfalto appunto ci si può settare la moto in base alle proprie esigenze e volontà. Design e stile di nuova generazione. Ragazzi, io sono rimasto piacevolissimamente colpito dal design di questa nuova Yamaha Tracer 9 e 9 GT. Sto parlando in questo caso della 9 GT perché è il modello di punta ed è quello che magari interessa di più a chi va su questo segmento. Ovviamente ognuno fa le proprie scelte, però io comprerei questa, come ho fatto la scelta della mia 0.9 SP. Prenderei la GT. Illuminazione completamente a LED e attenzione, doppio schermo TFT da 3,5 pollici. Ragazzi, ho visto le immagini di questa nuova strumentazione e vi posso dire che dalle foto me ne sono innamorato. È veramente bella, fatta come si deve. Il display di sinistra, se non mi sbaglio, è identico a quello della MT-09, però aggiungendo quello a destra abbiamo, come comunque sulla vecchia versione, una possibilità di uno schermo, una strumentazione più grande e vedere più dettagli contemporaneamente. Ed è fatto molto molto bene, mi piace un sacco. Non vedo l'ora di poterlo provare e farvi sapere appunto cosa ne penso vedendola da vicino. Questa nuova Tracer è presente in tre colorazioni, la Tech Camo, la Red Line, che sono uguali sia per la Tracer 9 GT sia per la Tracer 9 normale. Invece per la Tracer 9 GT abbiamo la Icon Performance, che è la classica livrea della SP GT. Possiamo vedere che monta lo stesso motore della MT-09 di nuova generazione, o meglio 2021, con annesso lo stesso scarico. Purtroppo questa è per me una nota dolente, non per quanto riguarda il motore, ma per quanto riguarda lo scarico, perché esteticamente non mi ha mai fatto impazzire da quando è stato presentato e continua a non piacermi. Quindi diciamo che su tantissime note positive, ma la maggior parte che vedo su questa moto, questa è l'unica cosa che stona, ma a questo punto qualcosa di assolutamente trascurabile, perché tanto lo scarico originale non tutti lo tengono, la maggior parte lo cambiano, ed è un qualcosa che appunto si può fare tranquillamente. Possiamo notare un serbatoio con un litro in più rispetto alla versione precedente, è totalmente ridisegnato. A parer mio è veramente fantastico, con le prese d'aria ispirate da 0.9 e 0.7, molto molto carine. Questo frontale di questa moto veramente mi piace un sacco, con questi occhietti ridisegnati molto simili alla precedente, però un po' più piccoli, un po' più assottigliati, e molto più piena sul davanti. Prima avevamo solamente il faro e poi tutto vuoto, con le forcelle completamente a vista, invece adesso con questi fianchetti ridisegnati, il nuovo faro, i faretti sotto implementati, abbiamo una moto frontalmente più piena, e a parer mio molto più bella, molto più innovativa, moderna e tecnologica. Mi piace veramente un sacco questa nuova Tracer. Parlando invece del posteriore, abbiamo lo stesso faro della MT-10. Questo faro, come se l'avessero messo dopo, nel senso si sono ricordati, hanno attaccato questo faro, non mi fa impazzire, però diciamo che è trascurabile come cosa ci può stare. Come possiamo vedere, anche questa Tracer 9 GT monta una pompa radiale sull'anteriore, cosa ancora molto positiva. Chi ha visto i video precedenti saprà che, per me, pensare di serie all'impianto frenante è un qualcosa comunque molto positivo. La moto, nonostante il motore alleggerito e più potente, il telaio più leggero e i cerchi più leggeri, comunque acquista 5 kg in più rispetto al modello precedente. Adesso non sono sicuro di questa cosa, se calcolano anche il peso delle borse laterali, perché nel caso in cui dovesse essere così, allora tanta roba, perché sono riusciti ad avere un peso uguale con prestazioni maggiori e dotazione in più, che quindi non è male. Perfetto ragazzi, quindi per questa rapidissima occhiata e reazione a questa nuova Tracer 9 GT, e Tracer 9 anche, è tutto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, e noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!